Sto robo qua serve per piantare Vabbè si capisce già qualcosa Cosa farà? Un albero dorato Si però usati Ah ragazzi se vi iscrivete E lasciate like A casa vi arriverà Questo E' troppo bello Io quando l'ho visto ho detto Ma che schifo Poi l'ho usato Era troppo bello Mi è venuto da finire Quindi ho detto Facciamolo vedere pure ai ragazzi Che non avevo fatto schifo Vabbè Questa cosa qua Io ho trovato l'ascia Nell'alberi Quello lì che vedete Proprio sotto al mio facione Dopo un pochettino Mi si mettono gli alberi Ora ragazzi come vi ho visto potete La scelta è più forte Per la prossima parte Viviamo a 5 like Come cacchio Ma cioè non è possibile All'altro l'ho spaccato con un coso Questo qua Ragazzi per questo video abbiamo finito Perché se no mi si chiudeva solo il video Perché ci sono i video All'altro l'ho spaccato con un coso All'altro l'ho spaccato con un coso All'altro l'ho spaccato con un coso All'altro l'ho spaccato con un coso